Per parecchi giorni di seguito, i resti dell'esercito in rotta avevano attraversato la città. Non si trattava in realtà della truppa regolare, ma di orde allo sbando. Gli uomini avevano la barba lunga e sporca, uniformi stracciate, e avanzavano stancamente, senza bandiera, senza reggimento. Sembravano tutti estremati, sfiniti, incapaci di pensare o di prendere qualsiasi decisione. Marciavano solo per abitudine, e crollavano a terra per la fatica non appena si fermavano. Si vedevano soprattutto dei richiamati. Rente pacifica, possidenti tranquilli, curvi sotto il peso del fucile, o soldatini guardinghi, facili allo spavento e all'entusiasmo, pronti all'attacco come alla fuga. Poi, fra loro, alcune braghe rosse, avanzi di una divisione distrutta in qualche grande battaglia. Cupi artiglieri in fila, accanto a quei fanti disparati. E di tanto in tanto, l'elmetto luccicante di un dragone dal passo pesante, che seguiva a fatica la marcia più leggera dei fanti. Alcune legioni di franchi tiratori dai nomi eroici, i vendicatori della sconfitta, i cittadini della tomba, i compagni della morte, erano passati a loro volta con aria da banditi. I loro capi, vecchi commercianti di stoffe o di sementi, ex mercanti di sego o di sapone, guerrieri per l'occasione, nominati ufficiali per i loro denari e per la lunghezza dei baffi, carichi di armi, di stracci e di galloni, parlavano con voce sonora, discutevano schemi di battaglia e pretendevano di sostenere da soli, sulle loro spalle da fanfaroni, la Francia agonizzante. Ma poi avevano paura dei loro stessi soldati, pendagli da forca, spesso coraggiosi fino all'estremo, predatori e depravati. Gli diceva che i prussiani stessero per entrare a Rouen. La guardia nazionale, che da due mesi effettuava delle ricognizioni molto prudenti nei boschi circostanti, fucilando talvolta le sue stesse sentinelle e pronta a combattere non appena un coniglio si muoveva in un cespuglio, era rientrata alla base. Le armi, le uniformi, tutto l'armamentario di morte con cui un tempo spaventava i dintorni delle strade nazionali nel raggio di tre leghe, erano improvvisamente scomparsi. Gli ultimi soldati francesi avevano appena attraversato la Senna per raggiungere Ponta de Mer, passando da Saint-Sever e Bourgachar e dietro a tutti, fra due ufficiali di ordinanza, passava a piedi il loro generale, afflitto di non poter tentare nulla con quelle larve disparate, smarrito gli stesso nella grande disfatta di un popolo abituato a vincere e ora disastrosamente sconfitto, nonostante il suo coraggio leggendario. Poi una calma profonda, un'attesa carica di spavento e silenziosa, era scesa sulla città. Molti borghesi panciuti, rammolliti dal commercio, attendevano ansiosamente i vincitori, tremando all'idea che i loro spiedi o grandi coltelli da cucina potessero essere considerati come armi. La vita sembrava sospesa, i negozi rimanevano chiusi, la strada muta, e tanto in tanto un passante, intimidito da quel silenzio, filava via rapidamente, rasente ai muri. L'angoscia dell'attesa faceva desiderare l'arrivo del nemico. Nel pomeriggio del giorno successivo alla partenza delle truppe francesi, alcuni ulani, sbuccati chissà da dove, attraversarono in fretta la città. Poi, un po' più tardi, una massa scura scese dal colle San Catrin, mentre altri due flussi di invasori spuntavano dalle strade di Darnetal e di Bois Guillaume. Gli avanguardi dei tre corpi si congiunsero contemporaneamente nella piazza del municipio, mentre da tutte le strade vicino l'esercito tedesco giungeva dispiegando i suoi battaglioni, che con passo duro e ritmato facevano risuonare il selciato. Ordini, gridati con voce sconosciuta e gutturale, salivano lungo i muri delle case apparentemente morte e deserte, ma dietro le persiane chiuse molti occhi spiavano quegli uomini vittoriosi, padroni della loro città, delle loro fortuna e delle loro vite per diritto di guerra. Gli abitanti del luogo, nelle loro stanze addombrate, erano in preda a quel panico che provocano i cataclismi, i grandi e funesti sconvolgimenti della Terra contro i quali nulla può la saggezza o la forza. Quella stessa sensazione che riappare ogni qual volta venga ribaltato l'ordine stabilito delle cose o non esiste più la sicurezza e tutto ciò che è protetto dalle leggi degli uomini o della natura si trovi in balia di una brutalità incosciente e feroce. I terremoti che schiacciano intere popolazioni sotto le macerie delle case, il fiume in piena che trascina i contadini annegati con i cadaveri dei buoi e le travi strappate dai tetti o l'esercito vittorioso che massacra chi si difende e fa prigionieri gli altri, saccheggia in nome della sciabola, rende grazie a un Dio al suono del cannone. Sono tutti flagelli spaventosi che sconvolgono ogni fede nella giustizia eterna e tutta la fiducia a cui siamo stati educati nella protezione del cielo o nella ragione degli uomini. Ad ogni porta bussavano piccoli distaccamenti, poi sparivano dentro le case. Era l'occupazione dopo l'invasione. Iniziava per i vinti il compito di mostrarsi ben disposti nei confronti dei vincitori. Dopo un po' di tempo, superato il terrore iniziale, si stabilì una nuova calma e in molte famiglie l'ufficiale prussiano mangiava a tavola. A volte sembrava una persona ben educata e, per cortesia, compiangeva la Francia, esprimeva la propria ripugnanza per aver dovuto partecipare a quella guerra. La gente gli era riconoscente di questo e poi, un giorno o l'altro, si poteva aver bisogno della sua protezione. Forse, trattandolo bene, si sarebbe riusciti ad avere qualche soldato in meno da sfamare e perché poi ferire qualcuno da cui si dipendeva completamente. Comportarsi così sarebbe stato un segno di temerarietà più che di coraggio e la temerarietà non è più un difetto per i borghesi di Rouen come ai tempi delle eroiche difese che resero illustre la loro città. E infine, ragione estrema derivata dalla cortesia francese, si dicevano che era comunque lecito essere educati con il soldato straniero fra le mure di casa purché in pubblico non si dimostrasse familiarità. Fuori non si si conosceva più ma dentro casa si chiacchierava volentieri e ogni sera il tedesco rimaneva sempre più a lungo a riscaldarsi con gli altri davanti al focolare. Tutta la città riprendeva poco a poco il suo aspetto ordinario. I francesi ancora non uscivano di casa ma i soldati prussiani giravano per le strade. D'altronde, gli ufficiali degli Usteri Blu che trascinavano con arroganza sul selciato i loro grandi strumenti di morte non sembravano disprezzare i semplici cittadini più di quanto non lo facessero gli ufficiali dei cacciatori che l'anno prima bevevano agli stessi caffè. Eppure c'era qualcosa nell'aria qualcosa di sottile e sconosciuto un'atmosfera intollerabile e strana una sorta di odore diffuso l'odore dell'invasione. Esso impregnava le case e le piazze mutava il sapore dei cibi dava l'impressione di essere in viaggio molto lontano fra tribù barbare e pericolose. I vincitori esigevano denaro molto denaro la gente pagava sempre del resto erano ricchi ma più un negoziante normanno si arricchisce più soffre per ogni sacrificio per ogni parcella della sua fortuna che vede passare nelle mani degli altri. tuttavia a due o tre leghe a sud della città seguendo il corso del fiume verso Coassé di Pendal e Bussar i barcaioli e i pescatori riportavano spesso a riva dal fondo dell'acqua il cadavere di qualche tedesco gonfio nella sua uniforme ucciso da una coltellata o da un calcio con la testa fracassata da una pietra o spinto in acqua dall'alto di un ponte. La melma del fiume seppelliva queste vendette oscure feroci e legittime eroismi ignoti attacchi silenziosi più pericolosi delle battaglie combattute alla luce del sole e senza il plamore della gloria da che l'odio contro lo straniero arma sempre qualche intrepido pronto a morire per un'idea. Poi finalmente visto che gli invasori per quanto avessero assoggettato la città alla loro disciplina inflessibile non avevano compiuto nessuno di quegli orrori che si diceva avessero commesso durante la loro marcia trionfale la gente cominciò a farsi coraggio e il bisogno degli affari si fece sentire nuovamente nel cuore dei commercianti del paese. Alcuni di loro avevano investito grossi interessi alle Havre occupata dall'esercito francese e volero tentare di raggiungere quel porto andando via da Dieppe dove si sarebbero imbarcati si servirono dell'influenza degli ufficiali tedeschi di cui avevano fatto conoscenza e ottennero un'autorizzazione a partire dal comandante in capo così venne fissata per il viaggio una grande dirigenza a 4 cavalli e 10 persone si prenotarono fu deciso di partire un martedì mattina all'alba per evitare assembramenti già da qualche giorno il gelo andava indurendo il terreno e lunedì verso le tre grossi nuvoloni neri provenienti da nord portarono la neve che cadde senza interruzione tutta la sera e tutta la notte alle 4 e mezza del mattino i viaggiatori si trovarono nel cortile dell'hotel de Normandie da dove sarebbero partiti erano ancora pieni di sonno e tremavano dal freddo avvolti nelle loro coperte ci si vedeva appena nell'oscurità e infagottati nei pesanti abiti invernali tutti quei corpi sembravano dei grossi preti dalle lunghe sottane tuttavia due uomini si riconobbero un terzo si avvicinò e i tre scambiarono alcune parole porto con me mia moglie disse uno io pure anch'io e prima aggiunse non torneremo più a qua e se i prussiani si avvicinano alle Havre noi andremo in Inghilterra avevano tutti gli stessi progetti perché erano simili fra loro la carrozza nel frattempo non era stata ancora attaccata ai cavalli ogni tanto una piccola lanterna tenuta in mano da uno stalliere usciva da una porta buia per scomparire immediatamente in un'altra i zoccoli dei cavalli battevano il suolo attutiti dall'etame delle lettiere mentre dal fondo dell'edificio si udiva la voce di un uomo che parlava alle bestie e imprecava un lieve tintinio di sonagli annunciò che si stavano maneggiando le bardature il tintinio divenne presto un fremito chiaro e continuo ritmato dal movimento degli animali ogni tanto si interrompeva poi riprendeva con una brusca scossa accompagnata dal rumore sordo di uno zoccolo ferrato che colpiva il suolo la porta si chiuse di colpo ogni rumore cessò i passeggeri gelati tacquero rimanevano lì immobili e intirizziti una fitta coltre di fiocchi bianchi lucicava scendendo senza interruzione sulla terra celava le forme stendeva sulle cose una schiuma di gelo e nel silenzio profondo della città calma e sepolta sotto l'inverno si sentiva solo quel vago fruscio ineffabile fluttuante della neve che cade sensazione più che rumore mescolanza di atomi leggeri che paiono riempire lo spazio coprire il mondo l'uomo riapparve con la sua lanterna tirando con una corda un cavallo dall'aria sconsolata che avanzava mal volentieri lo mise contro il timone attaccò le tirelle girò più volte attorno per fissare le bardature potendosi servire di una sola mano mentre con l'altra teneva la luce quando si mosse per andare a prendere la seconda bestia si accorse di tutti quei viaggiatori immobili già bianchi di neve e disse loro perché non salite in carrozza almeno lì sarete al riparo indubbiamente non ci avevano pensato e si precipitarono tutti i tre uomini sistemarono le mogli in fondo e salirono poi le altre forme confuse e scure occuparono a loro volta gli ultimi posti senza dire una parola il pavimento della carrozza era coperto di paglia in cui affondavano i piedi le signore in fondo avevano portato dei piccoli scaldini di rame a carbone chimico le accesero e per un po' sottovoce le elencarono i vantaggi ripetendosi cose che tutte conoscevano già finalmente non appena la dirigenza fu attaccata ai sei cavalli anziché a quattro già che il traino era più difficoltoso del previsto una voce chiese da fuori siete saliti tutti un'altra rispose da dentro sì e partirono la carrozza avanzava piano piano a passi lenti le ruote affondavano nella neve e tutta la struttura gemeva con dei cigolii sordi gli animali scivolavano sbuffavano fumavano e la frusta gigantesca del cocchiere schioccava senza tregua volteggiava da ogni lato si attorcigliava e si svolgeva come un serpente sottile e sferzava bruscamente le groppe panciute che si tendevano così in uno sforzo più violento il giorno intanto avanzava impercettibilmente quei fiocchi leggeri che un viaggiatore rovenese puro sangue aveva paragonato a una pioggia di cotone non cadevano più un chiarore torbido filtrava attraverso grosse nubi scure e gravi che rendevano più splendente il biancore della campagna in cui ogni tanto appariva una fila di grandi alberi rivestiti di brina o un casolare incappucciato di neve nella carrozza tutti si guardavano con curiosità alla triste luce di quell'aurora in fondo nei posti migliori sonnecchiavano l'uno di fronte all'altra il signor Loosot e sua moglie mercanti di vino all'ingrosso in via Grand Pont ex commesso di un padrone rovinato dagli affari Loosot aveva acquistato la ditta e fatto fortuna vendeva ottimo prezzo del pessimo vino ai piccoli esercenti delle campagne e tra amici e conoscenti aveva la fama di essere un gran furbo un vero normanno scaltro e gioviale la sua reputazione di imbroglione era così ben radicata che una sera in prefettura il signor Tournel autore di fiabe e di canzoni spirito mordente e sottile una vera gloria locale aveva proposto alle signore che vedeva un po' assonnate di fare una partita all'Oso Vol la battuta stessa volò per i saloni del prefetto e poi per i salotti della città e aveva fatto spellicare per un mese tutta la provincia Loosot era celebre inoltre per i suoi scherzi di ogni genere le sue battute di buono o di cattivo gusto e nessuno poteva parlare di lui senza aggiungere immediatamente quello Oso è proprio impagabile piccolo di statura aveva un ventre rotondo sovrastato da una faccia rubiconda con due basette brizzolate sua moglie alta robusta risoluta dalla voce forte e la decisione rapida rappresentava l'ordine matematico della ditta che gli animava con la sua allegra vitalità accanto a loro più distinto appartenente a un ceto più alto sedeva il signor carrella madonna un uomo rispettabile affermato nel campo del cotone proprietario di tre filande ufficiale della legion d'onore e membro del consiglio generale per tutto il periodo dell'impero egli era rimasto a capo dell'opposizione moderata solo per far pagare più caro la propria adesione alla causa che combatteva come diceva lui stesso con armi gentili la signora carrella madonna molto più giovane del marito era la consolazione degli ufficiali di buona famiglia inviati di stanza a Goan si trovava di fronte al proprio consorte piccolina graziosa carina argomitolata nella sua pelliccia e guardava con occhio pieno di sconforto l'interno desolante della carrozza i suoi vicini il conte Hubert de Breville e la contessa possedevano uno dei nomi più antichi e più nobili di Normandia il conte un vecchio gentiluomo dall'aspetto imponente si sforzava di accentuare con gli artifici dell'abbigliamento la sua naturale somiglianza con re Enrico IV che secondo una leggenda di cui la famiglia era fiera aveva messo in cinta una donna di Breville il cui marito per questa ragione era diventato conte e governatore della provincia collega di Carrè e la Madon al consiglio generale il conte Hubert rappresentava nel dipartimento il partito orleanista la storia del suo matrimonio con la figlia di un piccolo armatore di Nantes era sempre rimasta un mistero ma poiché la contessa era una gran signora riceveva meglio di chiunque altro e si diceva addirittura che fosse stata amata da un figlio di Luigi Filippo tutta la nobiltà la aveva accolta favorevolmente e il suo salotto era diventato il più importante della regione l'unico in cui sopravviveva la vecchia galanteria e dove era molto difficile essere introdotti la fortuna dei Breville tutta in beni immobili raggiungeva quanto si diceva le 500.000 libbre di rendita queste sei persone occupavano il fondo della carrozza e rappresentavano quella parte della società ricca serena e forte delle persone oneste autorevoli che credono nella religione nei principi per uno strano caso le signore si trovavano tutte sullo stesso sedile la contessa aveva inoltre come vicine due suore che sgranavano dei lunghi rosai borbottando patere ave una era anziana con il volto devastato dal vaiolo come se avesse ricevuto a bruciapelo una scarica di mitraglia in piena faccia l'altra piuttosto gracile aveva un viso grazioso e malaticcio e un petto da tisi camminato da quella fede logorante propria dei martiri e degli illuminati di fronte alle due religiose un uomo e una donna attiravano gli sguardi di tutti l'uomo ben noto era cornude il democratico il terrore della gente per bene da vent'anni inzuppava la sua barba rossa nei boccali di tutti i caffè democratici si era mangiato con fratelli e amici una discreta fortuna ereditata dal padre un vecchio pasticcere e aspettava con impazienza la repubblica per ottenere finalmente quel posto meritato dopo tante consumazioni rivoluzionarie il 4 settembre forse in seguito a uno scherzo credete di essere stato nominato prefetto ma quando volle assumere le proprie funzioni gli impiegati rimasti i soli padroni del campo rifiutarono di riconoscerlo e per questo fu costretto a ritirarsi per il resto era un bravuomo inoffensivo e servizievole che si era impegnato con ardore incomparabile a organizzare la difesa aveva fatto scavare delle buche nella pianura abbattere tutti i giovani alberi delle foreste vicine seminato trappole su ogni strada e con l'avvicinarsi del nemico soddisfatto dei suoi preparativi aveva velocemente ripiegato sulla città ora pensava di essere più utile alle avre dove sarebbero state necessarie nuove trincee la donna una di quelle dei costumi cosiddetti facili era famosa per la sua precoce rotondità che le aveva valso il soprannome di palla di sego piccola rotonda un po' in tutto il corpo grassoccia con le dita gonfie strette alle falangi come delle filze di salsicciotti la pelle lucida e liscia un petto esuberante che sporgeva dal vestito essa era pur sempre attraente ricercata tale era la sua freschezza così piacevole a vedersi il suo volto era una mela rossa un bocciolo di peonia pronto a dischiudersi dove si aprivano in alto due magnifici occhi neri ombreggiati da lunghe cili a folte e in basso una bocca affascinante stretta umida di baci adornata da denti luccicanti e microscopici si diceva inoltre che fosse piena di qualità inestimabili non appena fu riconosciuta le signore per bene iniziarono a bisbigliare e parole come prostituta o vergogna pubblica furono pronunciate a voce così alta da fare alzare la testa a quel punto e si aggettò sui vicini un'occhiata talmente provocante e audace che si fece subito un gran silenzio e tutti abbassarono gli occhi ad eccezione di Loasò che la spiava con aria eccitata ben presto però la conversazione fra le tre signore riprese la presenza di quella ragazza le aveva fatte diventare improvvisamente amiche quasi intime ed esse sentivano il bisogno di fare un fascio unico della loro dignità di spose di fronte a quella venduta svergognata e a chi l'amore legittimo guarda sempre con disprezzo il suo libero confratello anche i tre uomini ravvicinati dal loro istinto conservatore di fronte a Cornudet parlavano di soldi con un certo tono di disprezzo per i poveri il conte Hubert elencava i danni che egli aveva subito a causa dei prussiani le perdite risultanti dal bestiame rubato e dai raccolti perduti con una sicurezza da gran signore ultramilionario che malanni simili possono infastidire al massimo per un anno il signor Carré la Madonna molto provato nell'industria cotoniera aveva avuto l'avvertenza di spedire 600.000 franchi in Inghilterra una scorta per i momenti di bisogno che si riservava per ogni eventualità quanto a Loiseau aveva fatto in modo di vendere all'intendenza francese tutti i vini comuni che gli restavano in cantina così che lo Stato gli doveva una grossa somma che contava di riscuotere alle Havre e tutti e tre si gettavano occhiate rapide e amichevoli benché fossero di condizione diversa essi si sentivano affratellati dal denaro appartenenti alle grande massoneria di coloro che possiedono che fanno risuonare i denari infilando la mano nella tasca dei pantaloni la carrozza procedeva così lentamente che alle 10 del mattino non erano state percorse nemmeno quattro leghe gli uomini erano scesi tre volte per risalire ai piedi dei pendii cominciavano a preoccuparsi perché si doveva pranzare a tot e ormai disperavano di arrivarci prima della notte tutti si guardavano attorno per vedere di trovare qualche taverna sulla strada quando la dirigenza sprofondò in un mucchio di neve e ci vollero due ore per tirarla fuori l'appetito cresceva turbava gli animi e non si scorgeva nessuna bettola nessuna mescita di vino perché l'avvicinarsi dei prussiani e il passaggio delle truppe francesi affamate aveva scoraggiato ogni attività commerciale gli uomini andarono in cerca di provviste nelle fattorie lungo la strada ma non trovarono nemmeno un po' di pane perché i contadini diffidenti nascondevano le riserve nel timore di essere saccheggiati dai soldati che avendo nulla da mettere sotto i denti prendevano con la forza tutto quello che trovavano verso l'una Loiseau dichiarò che decisamente sentiva un gran buco nello stomaco da un bel pezzo tutti soffrivano come lui e il violento bisogno di mangiare che cresceva sempre più aveva interrotto la conversazione di tanto in tanto qualcuno sbadigliava un altro lo imitava quasi subito e ognuno a turno a seconda del carattere dell'educazione e della condizione sociale apriva la bocca rumorosamente o con discrezione portando subito la mano davanti a quel foro spalancato da cui usciva del vapore a più riprese Palla di Sego si chinò come per cercare qualche cosa sotto le gonne esitava un attimo guardava i suoi vicini poi si raddrizzava tranquillamente i volti erano pallidi e contratti Loiseau dichiarò che avrebbe dato mille franchi per un prosciuttino sua moglie fece un gesto di protesta poi si calmò soffriva sempre quando sentiva parlare di denaro sprecato e su questo argomento non riusciva a concepire nemmeno gli scherzi il fatto è che non mi sento bene disse il conte ma perché mai non avrà pensato a portare delle provviste ognuno si faceva lo stesso rimprovero Cornodè però aveva una borraccia piena di rum ne offrì lo rifiutarono freddamente solo Loiseau ne accettò due sorsi e restituendo la borraccia ringraziò è buono dopo tutto riscalda e calma l'appetito l'alcol lo mise di buon umore ed egli propose di fare come sul piccolo naviglio della canzone mangiare il più grasso dei passeggeri questa allusione indiretta a palla di sego scandalizzò le persone per bene nessuno rispose solo Cornodè fece un sorriso le due suore avevano smesso di borbottare il loro rosario e con le mani infilate nelle loro ampie maniche se ne stavano immobili con gli occhi ostinatamente bassi offrendo senza dubbio al cielo la sofferenza che inviava loro infine alle tre mentre si trovavano nel mezzo di una interminabile pianura senza un solo villaggio all'orizzonte palla di sego si abbassò all'improvviso e prese da sotto il sedile un grande paniere coperto da un tovagliolo bianco ne strasse prima un piattino di ceramica e un elegante bicchierino d'argento poi una grande terrina che conteneva due interi polli in gelatina tutti tagliati a pezzi nel paniere si intravedevano anche altre buone cose incartate patè frutta dolciumi le provviste preparate per un viaggio di tre giorni per non dover ricorrere alla cucina delle locande i colli di quattro bottiglie spuntavano fra i pacchetti del cibo palla di sego prese un'ala di pollo e si mise delicatamente a mangiarla con uno di quei panini che in normandia si chiamano ragens tutti gli sguardi erano puntati su di lei poi l'odore si diffuse facendo dilatare le narici provocando nelle bocche una salivazione abbondante una contrazione dolorosa della macella sotto le orecchie il disprezzo delle signore per quella ragazza divenne feroce quasi una voglia di ucciderla o di gettarla giù dalla carrozza nella neve lei il suo bicchierino il suo paniere e tutte le provviste malvoso divorava con gli occhi la terrina di pollo disse almeno la signora è stata più previdente di noi ci sono delle persone che sanno sempre pensare a tutto essa sollevò il capo verso di lui volete lavorire signore è dura rimanere a digiuno dal mattino e gli rispose sequioso beh francamente non dico di no io non ne posso più la guerra è guerra non è vero signora e lanciando un'occhiata tutto intorno aggiunse in momenti come questi sia ben felici di trovare delle persone che vi fanno delle cortesie aveva un giornale che aprì sui pantaloni per non macchiarli e con la punta di un coltello che aveva sempre in tasca prese una coscia tutta coperta di gelatina ne staccò un pezzo con i denti e la masticò con una soddisfazione così evidente che nella carrozza ci fu un grande sospiro di angoscia palla di seguo allora con voce umile e dolce propose alle suore di dividere la sua colazione entrambi accettarono subito e senza alzare lo sbardo si misero a mangiare velocemente dopo aver balbettato qualche ringraziamento nemmeno Cornudè rifiutò le offerte della sua vicina e aprendo i giornali sulle ginocchia formò con le due suore una sorta di tavola le bocche si aprivano e si chiudevano senza sosta ingoiavano masticavano inghiottivano con ferocia lo asò il suo cantuccio ce la metteva tutta e sottovoce invitava sua moglie a imitarlo e si resistette per un bel pezzo poi quando uno spasmo le contrasse le viscere cedette suo marito allora con frasi tornite chiese alla loro affascinante compagna se gli permetteva di offrire un pezzettino alla signora lo asò ma si certo signore le spose lei con un grazioso sorriso e porse la terrina ci fu un certo imbarazzo quando stapparono la prima bottiglia di Bordeaux c'era un solo bicchiere se lo passarono dopo averlo asciugato solo Cornudet sicuramente per galanteria posò le labbra sul punto lasciato ancora umido dalle labbra della sua vicina così circondati da persone che mangiavano soffocati dagli effluvi del cibo il conte e la contessa di Breville insieme al signor Carrella Madon e a sua moglie sopportarono quel supplizio odioso che porta il nome di Tantaro improvvisamente la giovane moglie del cotoniere emise un sospiro che fece voltare la testa a tutti era bianca come la neve di fuori i suoi occhi si chiusero chi no il capo aveva perso conoscenza suo marito in preda al panico implorava il soccorso di tutti sembrava che tutti stessero perdendo la testa quando la sua ropia anziana sollevando il capo della malata pose fra le sue labbra il bicchiere di palla di sego e le fece ingoiare alcune gocce di vino la bella signora si mosse aprì gli occhi sorrise e dichiarò con un filo di voce che ora si sentiva benissimo ma perché la cosa non si ripetesse più la religiosa la costrinse a bere un intero bicchiere di bordeaux e aggiunse è la fame nient'altro rossa in viso e imbarazzata palla di sego guardò i quattro viaggiatori rimasti a digiuno e balbettò dio mio se potessi offrire a loro signori tacque credendo di offenderli lo asò prese la parola perbacco in casi simili si è tutti fratelli e bisogna aiutarsi su signore bando alle cerimonie accettate che diamine chissà se mai riusciremo a trovare un tetto per la notte in questo passo non arriveremo a tot prima di domani a mezzogiorno esitavano nessuno osava prendersi la responsabilità di dire sì ma il conte pose fine alla questione si volse verso la ragazza intimidita con la sua grand'aria da gentiluomo e le disse accettiamo con riconoscenza signora solo il primo passo era difficile una volta passato il rubicone si buttarono a capofitto il paniere venne vuotato conteneva ancora un patè di fegato d'oca uno di allodola un pezzo di lingua affumicata delle pere di carcasson in una forma di ponlevec dei pasticcini e un vasetto pieno di cetriolini e cipollina sotto aceto perché come tutte le donne palla di sego andava matta per le verdure crude non si potevano mangiare tutte le provviste di quella ragazza senza rivolgere la parola così si chiacchierò inizialmente con una certa riserva poi dal momento che essa si comportava molto bene con maggiore disinvoltura la signora di Breville e la signora Carrella Madon con il loro fare da persone distinte furono affabili e garbate la contessa soprattutto dimostrò quella cortese con discendenza propria delle grandame che nessun contatto potrà mai macchiare e fu squisita ma la robusta signora Loasot che aveva l'animo di un gendarme rimase arcigna parlò poco e mangiò molto naturalmente si parlò di guerra si raccontarono storie tremende sui prussiani atti di coraggio dei francesi e tutte quelle persone in fuga resero omaggio al coraggio degli altri ben presto passarono alle storie personali e Palla di Sego raccontò con emozione sincera con quel calore che hanno talvolta le ragazze come lei nell'esprimere i propri impulsi naturali di come aveva lasciato Juan all'inizio credevo di poter restare diceva avevo la casa piena di provviste e preferivo sfamare qualche soldato piuttosto che espatriare chissà dove ma quando li ho visti quei prussiani è stato più forte di me mi hanno fatto ribollire il sangue dalla rabbia e piangevo di vergogna dalla mattina alla sera oh se fossi stata un uomo allora sì li guardavo dalla finestra quei porci con l'elmetto a punta e la mia cameriera mi teneva le mani per impedirmi di gettare qualche mobile sulle loro teste poi sono venuti a casa mia per alloggiare e io sono saltata alla gola del primo non è mica più difficile strangolare loro degli altri e l'avrei fatto fuori quello se non mi avessero tirato via per i capelli dopodiché ho dovuto nascondermi poi non appena ne ho avuta l'occasione sono partita ed eccomi qua tutti si complimentarono con lei essa saliva nella stima dei suoi compagni che non si erano dimostrati così coraggiosi e cornudeo ascoltandola aveva il sorriso approvatore e benevolo di un apostolo come un prete che senta un devoto fare le lodi a Dio già che i democratici dalla barba lunga hanno il monopolio del patriottismo come gli uomini in sottana hanno quello della religione parlò a sua volta con tono dottrinale con quell'enfasi imparata dai proclami affisse ogni giorno ai muri e terminò con un pezzo di eloquenza in cui faceva una magistrale strigliata a quel mascalzone di Paddinghè Palla di Sego che era buona partista andò immediatamente su tutte le furie divenne più rossa di una ciliesa e balbettando di indignazione disse avrai proprio voluto vedere voi al posto suo bella roba oh sì siete stati voi a tradirlo a quell'uomo non ci resterebbe che lasciare la Francia se fossimo governati da gentaglia come voi cornudè impassibile aveva un sorriso pieno di sdegno e di superiorità e si intuiva che presto sarebbero arrivate le parole grosse quando il conte si intromise e calmò non senza fatica la ragazza esasperata dichiarando con tono autoritario che tutte le opinioni sincere erano degne di rispetto tuttavia la contessa e la moglie del cotoniere eserbavano in cuor loro quell'odio cieco delle persone per bene nei confronti della repubblica e quella simpatia istintiva che nutrono tutte le donne per i governi militari e dispotici si sentivano loro malgrado attratte da quella prostituta piena di dignità i cui sentimenti erano così simili ai loro il paniere era vuoto in dieci lo avevano fatto fuori senza fatica con rimpianto che non fosse più grande la conversazione continuò ancora un po' anche se più fredda da quando avevano finito di mangiare scendeva la notte poco a poco l'oscurità divenne profonda e il freddo più intenso durante la digestione faceva rabbrividire palla di sego nonostante la sua grassezza la signora di Breville gli offrì allora il suo scaldino al quale dal mattino il carbone era stato rinnovato più volte l'altra accettò subito poiché si sentiva gelare i piedi la signora Carrella Madon e la signora Loasù offrirono il loro alle suore il cocchiere aveva acceso i fanali essi illuminavano di un bagliore vivo una nuvola di vapore che saliva dalle groppe sudate dei cavalli al timone e ai due lati della strada la neve che sembrava scorrere sotto il riflesso mobile delle luci dentro la carrozza non si distingueva più nulla improvvisamente però ci fu un sussulto fra palla di sego e cornudè e Loasù i cui occhi scrutavano l'oscurità credete di vedere l'uomo dalla grande barba scostarsi bruscamente come se avesse ricevuto un bel colpo partito in silenzio in fondo alla strada apparvero dei puntini luminosi era tot avevano fatto undici ore di cammino che con le due ore di sosta divisa in quattro volte per consentire ai cavalli di mangiare un po' di avena e riprendere fiato diventavano quattordici entrarono nel paese e si fermarono davanti all'hotel de commerce si aprì lo sportello un rumore ben noto fece trassalire tutti i viaggiatori era il fodero di una sciabola che urtava il suolo immediatamente la voce di un tedesco gridò qualche cosa benché la diligenza fosse immobile nessuno scendeva come se uscendo tutti si aspettassero di essere massacrati allora apparve il cocchiere tenendo in mano una lanterna con la quale illuminò immediatamente fino al fondo della carrozza le due file di teste terrorizzate con le bocche aperte e gli occhi sgranati per la sorpresa e la paura accanto al cocchiere in piena luce c'era un ufficiale tedesco un giovane alto incredibilmente magro e biondo stretto nella sua uniforme come una ragazza nel busto aveva un berretto piatto e lucido messo di traverso che lo faceva somigliare a un fattorino d'albergo inglese i suoi baffi spropositati dai lunghi peli dritti si assomigliavano impercettibilmente ai lati terminando con un solo filo biondo così sottile da non vederne la fine sembravano pesare sugli angoli della bocca e tirando la guancia imprimevano alle labbra una piega all'ingiù in un francese da alzaziano invitò i passeggeri a uscire dicendo con tono secco volete scendere signori e signore le due suore obbedirono per prime con una docilità da santi abituati a ogni tipo di sottomissione apparvero poi il conte e la contessa seguiti dal cotoniere e da sua moglie e infine dall'uoso che spingeva davanti a sé la sua abbondante metà mettendo piede a terra quest'ultimo disse all'ufficiale buongiorno signore spinto più da un senso di prudenza che di buona educazione l'altro insolente come tutte le persone che hanno potere lo guardò senza rispondere palla di sego e cornude benché fossero vicini allo sportello scesero per ultimi gravi e alteri di fronte al nemico la ragazza cercava di dominarsi e di rimanere calma il democratico tormentava con gesti tragici e un po' tremanti la sua lunga barba rossastra volevano mantenere una certa dignità intuendo che in circostanze del genere ognuno rappresenta un po' il proprio paese e disgustati entrambi allo stesso modo per la debolezza dei propri compagni lei cercava di mostrarsi più fiera delle sue vicine le donne oneste mentre lui sentendo di dover dare l'esempio continuava con il suo atteggiamento a quella missione di resistenza iniziata scavando buche nelle strade entrarono nella grande cucina della locanda e il tedesco dopo essersi fatto consegnare l'autorizzazione a partire firmata dal comandante in capo in cui erano indicati nomi connotati e professione di ogni viaggiatore esaminò a lungo tutta quella gente confrontando le persone con le informazioni scritte poi disse bruscamente benissimo e scomparve a quel punto tutti tirarono un respiro di sollievo avevano ancora fame e ordinarono la cena per prepararla ci voleva una mezz'oretta e mentre due cameriere sembravano occuparsene essi andarono a vedere le stanze si trovavano tutte in un lungo corridoio in fondo al quale c'era una porta a vetri con una piccola insegna quando finalmente stavano per mettersi a tavola apparve il padrone della locanda in persona era un ex mercante di cavalle un uomo grosso asmatico che metteva di continuo dal petto fischi suoni rauchi corguoglii di catarro suo padre gli aveva trasmesso il nome di folle in vi chiese la signorina Elisabeth Russe palla di seco trassalì si voltò sono io disse signorina l'ufficiale prussiano vuole parlarvi immediatamente a me si se siete davvero la signorina Elisabeth Russe essa si turbò riflette per un attimo poi dichiarò con decisione può darsi ma io non ci andrò attorno a lei ci fu una certa agitazione ognuno discuteva cercava la ragione di quell'ordine il conte le si avvicinò avete torto signora perché il vostro rifiuto può comportare delle difficoltà notevoli non solo per voi ma anche per tutti i vostri compagni non si deve mai resistere a chi è più forte recandovi da lui non correrete assolutamente nessun pericolo si tratta sicuramente di qualche formalità dimenticata tutti furono d'accordo con il conte la pregarono le fecero pressione la rimproverarono e alla fine la convinsero perché tutti temevano le complicazioni che avrebbero potuto derivare da un colpo di testa infine essa disse è solo per voi che lo faccio sia chiaro la contessa le prese la mano e le disse e noi ve ne siamo grati la ragazza uscì l'aspettarono per mettersi a tavola ognuno si rammaricava di non essere stato chiamato al posto di quella ragazza impetuosa irascibile e si preparava mentalmente delle banalità nel caso in cui fosse stato a sua volta chiamato ma dopo una decina di minuti essa riapparve sbuffando rossa come se stesse soffocando su tutte le furie balbettava ah canaglia canaglia tutti cercavano di sapere ma lei non disse nulla e già che il conte insisteva essa rispose con grande dignità no la cosa non vi riguarda non posso parlare così si sedettero attorno a una grande zuppiera da cui veniva un profumo di cavoli nonostante quel contrattempo la cena fu allegra il sidro era buono e la coppia l'osò e le suore ne ordinarono per economia gli altri ordinarono vino con nude chiese della birra aveva un modo tutto particolare di stappare la bottiglia di far sfumare il liquido di osservarlo inclinando il bicchiere che alzava subito verso la lampada per apprezzarne bene il colore quando beveva la sua grande barba che aveva preso il colore dell'amata bevanda pareva palpitare di tenerezza i suoi occhi si storcevano per non perdere di vista il boccale e sembrava stesse adempiendo la sola funzione per la quale era nato gli sarebbe detto che in cuor suo egli stabilisse il contatto e una sorta di affinità tra due grandi passioni che occupavano appieno la sua vita la birra è la rivoluzione e di certo non poteva gustare l'una senza pensare all'altra il signore e la signora Follenby cenavano a capotavola l'uomo rantolando come una vecchia locomotiva aveva troppo catarro nel petto per poter parlare mangiando in compenso la moglie non stava mai zitta raccontò tutte le sue impressioni di quando arrivarono i prussiani quello che facevano che dicevano maledicendoli prima perché le costavano del denaro e poi perché aveva due figli soldati si rivolgeva soprattutto alla contessa l'usingata di parlare con una gran dama poi abbassava la voce per dire cose un po' delicate e suo marito cercava di interromperla faresti meglio a stare zitta signora Follenby ma lei non ci faceva nessun caso e continuava sì signora quella gente non fa che mangiare patate e maiale maiale e patate e non pensiate che siano puliti ah no sporcano dappertutto con rispetto parlando e se li vedeste fare esercitazioni per ore e giorni sono tutti là in un campo e marcia avanti e marcia indietro e giro di qua e giro di là se almeno coltivassero la terra o se lavorassero le strade del loro paese e invece no signora mia quei militari non servono proprio a nessuno la povera gente deve anche nutrirli perché imparino solo ad ammazzare e io sono solo una vecchia senza educazione è vero ma quando li vedo rovinarsi la salute e apestare i piedi dalla mattina alla sera allora mi dico pensare che c'è della gente che fa tante scoperte utili e guarda altri invece che si danno tanto da fare per fare del male davvero non è vergognoso uccidere le persone che siano prussiani inglesi polacchi o francesi e se ci si vendica su qualcuno che ci ha fatto un torto non va bene visto che ci condannano ma quando i nostri ragazzi vengono sterminati come fossero selvaggina con i fucili allora sì va bene visto che danno delle medaglie a chi ne ammazza di più no vedete io non riuscirò mai a capire una cosa simile cornudè disse ad alta voce la guerra è una barbarie quando si attacca a un vicino pacifico ma è un dovere sacro quando si difende della patria l'anziana donna abbassò il capo sì disse quando ci si difende è un'altra cosa ma non si dovrebbero uccidere piuttosto quei re che fanno tutto questo per loro capriccio lo sguardo di cornudè si accese brava cittadina disse il signor carrella madone rifletteva profondamente ma il grado fosse un fanatico dei grandi condottieri il buon senso di quella contadina gli faceva pensare alla ricchezza che avrebbero portato a un paese tante braccia inattive e di conseguenza dannose tante forze improduttive se fossero state impiegate nelle grandi opere industriali che richiedono secoli per essere realizzate e intanto Loiseau lasciato al suo posto andò a chiacchierare a bassa voce con il locandiere questi rideva tossiva sputava il suo ventre enorme sobbalzava di gioia alle battute del suo vicino e gli acquistò sei barilotti di Bordeaux per la primavera successiva quando i prussiani se ne fossero andati appena terminata la cena tutti erano a pezzi per la fatica e andarono a dormire ma Loiseau che aveva intuito come stavano le cose fece coricare sua moglie poi si mise a origliare e a guardare dal buco della serratura per cercare di scoprire quelli che lui chiamava i misteri del corridoio dopo circa un'oretta udì un fruscio guardò immediatamente e scorse Palladisego che in una vestaglia di cashmere blu bordata di merletti bianchi sembrava ancora più grassoccia teneva in mano una bugia e si dirigeva verso la porta in fondo al corridoio ma una porta a fianco si socchiusa e quando essa ricomparve dopo pochi minuti Cornudè in bretelle si mise a seguirla parlavano sottovoce poi si fermarono Palladisego sembrava difendere energicamente l'ingresso della propria stanza L'uoso purtroppo non riusciva a sentire le parole ma alla fine quelli alzarono la voce e così poteva ferrarne alcune Cornudè insisteva animatamente e diceva su è una sciocchezza cosa vi costa lei però aveva l'aria indignata e rispose no caro mio ci sono dei momenti in cui certe cose non si fanno e poi qui sarebbe una vergogna lui certamente non riusciva a capire e chiese perché allora lei andò su tutte le furie e alzando ancora il tono della voce disse perché non riuscite a capire perché quando ci sono dei prussiani in casa magari nella stanza accanto l'altro tacque quel pudore patriottico di prostituta che non si fa carezzare vicino al nemico dovette risvegliare nel suo cuore e la sua dignità vacillante già che dopo averla semplicemente baciata ritornò in camera sua in punta di piedi lo asò eccitatissimo abbandonò il buco della serratura fece un passo di danza nella stanza mise la sua cuffia da notte sollevò il lenzuolo sotto il quale giaceva la dura carcassa della sua compagna e la svegliò con un bacio sussurrandole mi ami cara a quel punto tutta la casa divenne silenziosa ma presto si udì da qualche parte in una direzione indeterminata che poteva essere la cantina o la soffitta un russare possente monotono regolare un rumore sordo e prolungato con dei tremori da caldaia sotto pressione il signor Follenby dormiva avevano deciso di partire alle otto del mattino e così all'indomani tutti si trovarono in cucina ma la carrozza con il tetto coperto di neve stava lì solitaria in mezzo al cortile senza cavalli e senza cocchiere lo cercarono in vano nelle scuderie nel fienile nelle rimesse e allora gli uomini decisero di andare a cercarlo in paese e uscirono si trovarono sulla piazza con la chiesa in fondo e le case basse ai due lati dove scorsero dei soldati prussiani il primo stava pelando patate il secondo più lontano stava pulendo la bottega del barbiere un altro con il volto coperto da una barba che gli arrivava fino agli occhi teneva in braccio un marmocchio che piangeva e lo cullava sulle ginocchia per cercare di calmarlo e le grosse contadine i cui mariti erano nell'esercito in guerra indicavano a gesti ai loro obbedienti vincitori il lavoro da svolgere tagliare la legna aggiungere acqua alla zuppa macinare il caffè uno di loro lavava addirittura alla biancheria della sua ospite una vecchia incapace di muoversi il conte meravigliato interrogò il sacrestano che stava uscendo dalla casa del parruco il vecchio topo di chiesa gli rispose oh quelli non sono cattivi non sono prussiani a quanto si dice vengono da più lontano non so bene da dove e hanno lasciato tutti una donna e dei bambini al loro paese la guerra di certo non li diverte sono sicuro che anche laggiù piangono per questi uomini e tutto ciò porterà una grande miseria da loro come da noi qui ancora non stiamo troppo male per il momento perché quelli non sono malvagi e lavorano come se fossero a casa loro vedete signore tra povera gente bisogna pure aiutarsi sono i grandi che fanno la guerra cornude indignato da quell'intesa cordiale stabilitisi fra vinti e vincitori tornò indietro preferendo rinchiudersi nella locanda lo asù disse una battuta di spirito ripopolano il signor carella madone disse con gravità riparano ma il cocchiere non si trovava alla fine lo scovarono nel caffè del villaggio seduto fraternamente con l'attendente dell'ufficiale il conte lo chiamò non vi era stato dato l'ordine di attaccare i cavalli per le otto ah beh sì ma dopo me ne è stato dato un altro e quale di non attaccarli affatto e chi vi ha dato quest'ordine beh il comandante prussiano e perché non ne ho idea andate a chiederglielo voi mi proibiscono di attaccare i cavalli e io non li attacco ecco tutto è stato lui stesso a darvi quest'ordine no signore è stato il locandiere a darmelo da parte sua e quando ieri sera quando stavo andando a letto i tre uomini rientrarono molto preoccupati chiesero del signor Follenvie ma la cameriera rispose che il padrone per l'asma non si alzava mai prima delle dieci aveva addirittura proibito formalmente di svegliarlo prima tranne in caso di incendio volerò vedere l'ufficiale ma questo era assolutamente impossibile ma è che egli alloggiasse nella locanda solo il signor Follenvie era autorizzato a parlargli per gli affari civili così aspettarono le donne ritornarono nelle loro stanze e si tenero occupate con piccole cose futili Cornudet si sistemò davanti al grande camino della cucina dove ardeva un bel fuoco si fece portare un tavolinetto dal caffè una birra e tirò fuori la sua pipa che godeva fra i democratici di una considerazione quasi uguale alla sua come se servendo a Cornudet essa avesse servito la patria era una splendida pipa di schiuma superbamente ingrommata nera come i denti del suo proprietario ma profumata ricurva lucente familiare alla sua mano quasi un completamento del suo aspetto rimase immobile con gli occhi fissi ora sulla fiamma del focolare ora sulla schiuma che incoronava il suo boccale e ogni volta che beveva passava con aria soddisfatta le sue lunghe dita sottili fra i lunghi capelli unti mentre aspirava dai baffi goccioline di spuma con il pretesto di sgranchirsi le gambe l'osò andò a piazzare del vino agli esercenti del paese il conte e il cotoniere si misero a parlare di politica facevano previsioni sull'avvenire della Francia uno credeva negli Orléans l'altro in un salvatore sconosciuto un eroe che si sarebbe rivelato quando tutto sembrava perduto forse un Duguesclen una Giovanna d'Arco o un altro Napoleone e il principe imperiale non fosse stato così giovane ascoltandoli Cornudet sorrideva come un uomo che conosce la chiave del destino la sua pipa profumava tutta la cucina quando suonarono le dieci apparve il signor Follenvie venne subito interrogato ma egli seppe solo ripetere due o tre volte senza nessuna variante le stesse parole l'ufficiale mi ha detto così signor Follenvie domani impedirete che si attacchino i cavalli alla carrozza di quei viaggiatori non voglio che partano senza il mio ordine è chiaro questo è tutto volerò allora vedere l'ufficiale il conte gli fece avere il suo biglietto da visita nel quale il signor Carrella Madon aggiunse il proprio nome ai titoli il prussiano fece rispondere che avrebbe ricevuto quei due signori dopo aver pranzato vale a dire verso l'una il signore ricomparvero e tutte mangiarono qualche cosa malgrado la preoccupazione palla di seco sembrava indisposta e sorprendentemente turbata stavano bevendo il caffè quando l'attendente venne a chiamare i signori l'uosò si unì ai primi due e mentre cercavano di far venire anche cornude per dare più solennità alla loro azione questi dichiarò con fierezza che egli non intendeva avere mai niente a che fare con i tedeschi e ritornò al suo caminetto chiedendo un'altra birra gli altri tre uomini risalirono e furono introdotti nella più bella stanza della locanda dove l'ufficiale li ricevette sdraiato su una poltrona con i piedi sul caminetto fumando una lunga pipa di porcellana avvolto in una vistosa vestaglia da camera rubata sicuramente nella dimora abbandonata di qualche borghese di cattivo gusto si alzò non li salutò né li guardò offriva un esempio perfetto della naturale scortegia del militare vittorioso dopo qualche istante finalmente disse che cossa folete il conte prese la parola desideriamo partire signore no potrei osare chiedervi la causa di questo rifiuto perché io non foglio vi faccio rispettosamente osservare signore che il vostro comandante in capo ci ha consegnato un'autorizzazione a partire per dieppe credo che non abbiamo fatto nulla per meritare il vostro rigore io non foglio ecco potete scentare fecero tutti e tre un inchino e si ritirarono il pomeriggio fu penoso non riuscivano a capire quel capriccio del tedesco e le idee più strane turbavano le menti se ne stavano tutti in cucina discutevano ininterrottamente immaginando cose inverosimili volevano forse tenerli come ostaggi ma che scopo o farli prigionieri o piuttosto chiede a loro un forte riscatto a quest'idea il panico li assalì i più spaventati erano i ricchi che si vedevano già costretti per riscattare la vita a versare sacchi pieni d'oro nelle mani di quel soldato insolente si scervellavano per inventare menzogne accettabili nascondevano le loro ricchezze farsi passare per poveri poverissimi lo aso si tolse la catena dell'orologio e la nascose in tasca il calare della notte aumentò le loro apprezzioni fu accesa la lampada e poiché mancavano ancora due ore alla cena la signora lo aso propose una partita a 31 sarebbe stato un modo per distrarsi gli altri accettarono lo stesso cornudè che per educazione aveva spento la pipa vi partecipò il conte mescolò le carte e le distribuì palla di sego fece 31 al primo colpo e presto l'interesse per la partita placò il timore che assillava gli animi cornudè però si accorse che la coppia lo aso cercava di barare stavano per mettersi a tavola quando riapparve il signor follo in vi e con la sua voce rauca disse l'ufficiale prussiano mi manda a chiedere alla signorina Elisabeth Rousset se non ha ancora cambiato idea palla di sego rimase in piedi pallidissima poi arrossendo di colpo sembrò soffocare dalla collera al punto di non riuscire più a parlare infine esplose potete dire a quel mascalzone a quello schifoso a quella carogna di prussiano che non ci starò mai avete capito bene mai mai e mai il grosso locandiere uscì e palla di sego venne circondata interrogata sollecitata da tutti a svelare il mistero della sua visita essa dapprima fece resistenza ma l'esasperazione ebbe presto la meglio cosa vuole cosa vuole vuole venire a letto con me gridò l'indignazione fu così viva che nessuno si turbò per quell'espressione cornude sbatte violentamente il boccale sul tavolo e lo ruppe ci fu un coro di riprovazione contro quell'ignobile soldataccio una ventata di collera una coalizione di tutti per la resistenza come se a ognuno fosse stata chiesta una parte del sacrificio che si esigeva da lei il conte dichiarò disgustato che quella gente si comportava proprio come gli antichi barbari le donne soprattutto manifestarono a palla di sego una partecipazione energica e affettuosa le suore che comparivano solo ai pasti avevano abbassato il capo e non dicevano nulla tuttavia quando il furore più immediato si placò cenarono ma parlarono poco tutti riflettevano le signore si ritirarono presto e gli uomini continuando a fumare organizzarono una partita ai cartè alla quale fu invitato anche Follainville che volevano diplomaticamente interrogare sui mezzi da impiegare per vincere la resistenza dell'ufficiale ma egli pensava solo alle proprie carte senza ascoltare nulla e senza rispondere nulla continuando a ripetere gioco signori gioco la sua attenzione era così viva da fargli dimenticare persino di sputare e questo gli faceva uscire talvolta dei suoni prolungati dal petto il sibilo dei suoi polmoni offriva tutta la scala dell'asma dalle note gravi e profonde a quelle rauche e acute dei galletti che provano a cantare si rifiutò di salire persino quando sua moglie che crollava dal sonno venne a chiamarlo così essa se ne andò da sola perché lei era mattiniera sempre in piedi con il sole mentre il suo marito era nottambulo sempre pronto a passare la notte con gli amici e gridò metti il mio latte e uovo davanti al fuoco e riprese la partita non appena gli altri si resero conto che non potevano tirargli fuori niente decisero che era ora di ritirarsi e tutti andarono a letto l'indomani si alzarono ancora abbastanza presto con una speranza vaga un desiderio più grande che mai di andarsene e il terrore di un giorno da passare in quell'orribile locanda ma ahimè i cavalli erano ancora nella scuderia il cocchiere sempre introvabile non avendo nulla da fare si misero a girare attorno alla carrozza il pranzo fu piuttosto triste inoltre si era creata una sorta di freddezza nei confronti di palla di sego già che la notte che porta consiglio aveva leggermente modificato i giudizi ora servavano quasi del rancore a quella ragazza perché non era andata a trovare in segreto il prussiano per preparare al risveglio una bella sorpresa ai suoi compagni cosa c'era di più semplice in fondo chi l'avrebbe saputo avrebbe potuto salvare le apparenze facendo dire all'ufficiale che essa aveva pietà dello sconforto degli altri per lei era una cosa di così poca importanza ma nessuno ancora confessava simili pensieri nel pomeriggio poiché tutti si annoiavano da morire il conte propose di fare una passeggiata nei dintorni del paese ognuno si coprì per bene e la piccola compagnia si mise in cammino ad eccezione di Cornudet che preferiva restarsene accanto al fuoco e le suore che passavano le loro giornate in chiesa o dal curato il freddo ogni giorno più intenso pungeva ferocemente il naso e le orecchie i piedi erano così indolenziti che ogni passo era una sofferenza e la campagna aperta apparve loro così terribilmente lugubre sotto quel biancore sconfinato che tutti ben presto rientrarono con l'animo ghiacciato al cuore stretto le quattro donne camminavano davanti i tre uomini le seguivano un po' più indietro lo so che intuiva la situazione chiese all'improvviso se quella puttana le avrebbe fatti rimanere ancora a lungo in un luogo simile il conte sempre garbato disse che non si poteva pretendere da una donna un sacrificio così penoso e che questo doveva venire da lei il signor carrella madone osservò che se i francesi avessero fatto come si presumeva una controffensiva di eppe lo scontro non poteva avvenire che a tot questa osservazione fece riflettere gli altri due e se se ne andassimo a piedi disse lo asù il conte alzò le spalle ma ci pensate con questa neve e con le nostre mogli e poi ci seguirebbero subito saremmo presi dopo dieci minuti e fatti prigionieri alla merced dei soldati era vero tacquero i signori parlavano di vestiti ma un certo nervosismo sembrava metterla in disaccordo all'improvviso in fondo alla strada apparve l'ufficiale il suo vitino di vespa in uniforme si stagliava sulla neve che limitava l'orizzonte camminava con le ginocchia larghe con quel movimento particolare dei militari che si sforzano di non sporcare gli stivali scrupolosamente lucidati fece un inchino passando accanto alle signore e guardò con disprezzo gli uomini che del resto ebbero la dignità di non scoprirsi il capo men che l'uoso abbozzasse un gesto per togliersi il cappello palla di sego era diventata rossa fino alle orecchie e le tre signore provarono una grande umiliazione per essersi fatte vedere da quel soldato in compagnia di quella ragazza che egli aveva trattato con tanta insolenza così parlarono di lui del suo aspetto del suo volto la signora carrella madone che aveva conosciuto molti ufficiali e le giudicava da vera intenditrice trovava che questo non fosse affatto male che anzi le dispiaceva che non fosse francese perché sarebbe stato un ossero molto attraente per il quale tutte le donne sarebbero sicuramente andate pazze una volta rientrati non seppero più cosa fare si scambiarono persino parole scortesi per cose di poco conto la cena fu silenziosa e durò poco e ognuno salì per andare a coricarsi nella speranza di dormire per passare il tempo la mattina dopo scesero con i volti stanchi e i cuori esasperati le donne rivolgevano appena la parola a palla di sego sono la campana era per un battesimo la ragazza aveva un figlio allevato da alcuni contadini di Iftot non lo vedeva neanche una volta all'anno e non pensava mai a lui ma l'idea di quello che stava per essere battezzato le infuse nel cuore una tenelezza così improvvisa e violenta per suo figlio che volle assolutamente assistere alla cerimonia non appena essa uscì tutti si guardarono poi avvicinarono le sedie già che sapevano bene che alla fine dovevano decidere qualcosa lo so ebbe un'idea pensava di proporre all'ufficiale di tenersi palla di sego da sola e lasciar partire gli altri Follenby si incaricò ancora della commissione ma li discese quasi subito il tedesco che conosceva la natura umana lo aveva messo alla porta pretendeva di trattenere tutti finché il suo desiderio non fosse stato appagato a quel punto il temperamento grossolano della signora Luosu esplose non dovremo morire qui di vecchiaia spero visto che il mestiere di quella donnaccia è farsele con tutti gli uomini trovo che non abbia diritto di rifiutare uno piuttosto che un altro ma guarda un po' a Juan ha preso tutto quello che ha trovato persino i cocchieri sì signora il cocchiere della prefettura lo so bene io perché comprerà il vino da noi e adesso che si tratta di tirarci fuori dai guai fa la schifiltosa quella mocciosa e poi trovo che si comporti benissimo quell'ufficiale forse senza una donna da un sacco di tempo e c'eravamo noi tre che lui avrebbe senz'altro preferito e invece no si accontenta di quella di tutti perché rispetta le donne sposate pensateci insomma lui è il padrone bastava che dicesse voglio e poteva prenderci di forza con i suoi soldati le donne ebbero un fremito gli occhi della signora carrella madone brillavano ed era leggermente impallidita come se si sentisse già presa con la forza dall'ufficiale gli uomini che discutevano in disparte si avvicinarono l'oso furribondo voleva consegnare quella miserabile al nemico legata a mani e piedi ma il conte discendente da tre generazioni di ambasciatori e dotato persino di un fisico da diplomatico era più propenso ad agire ad astuzia bisognerebbe convincerla disse così si misero a cospirare le donne si strinsero fra loro e il donno della voce fu abbassato la discussione divenne generale e ognuno volle esprimere la propria opinione con molta decenza comunque soprattutto le signore trovavano delle frasi delicate delle incantevoli sottigliezze di espressione per dire le cose più scabrose le precauzioni usate nel linguaggio erano tali che un estraneo non avrebbe capito nulla ma quel leggero velo di pudore che ricopre ogni donna del mondo si stendeva solo sulla superficie ed esse si entusiasmavano per quell'avventura spinta e in fondo si divertivano follemente sentendosi a proprio agio maneggiando l'amore con la stessa sensualità di un cuoco goloso che prepara la cena per un altro la storia sembrava così divertente che ritornò anche il buon umore il conte fece delle battute un po' azzardate ma così ben dette da far sorridere lo asò a sua volta si lasciò scappare qualche salacità più audace per la quale nessuno si offese e l'idea espressa così brutalmente da sua moglie dominava ormai tutti gli animi visto che è il suo mestiere perché mai quella ragazza dovrebbe rifiutare questo qui più di un altro la graziosa signora carrello madone sembrava addirittura pensare che al suo posto essa avrebbe rifiutato lui meno di un altro prepararono un lungo blocco come per l'assedio di una fortezza ognuno decise il ruolo che avrebbe svolto gli argomenti di cui si sarebbe servito le manovre che avrebbe dovuto eseguire furono stabiliti il piano d'attacco le tattiche da impiegare e le sorprese dell'assalto per costringere quella cittadella vivente a ricevere in seno il nemico cornodè però se ne rimaneva in disparte completamente estraneo a quell'affare gli animi erano concentrati in un'attenzione così profonda che non sentirono nemmeno rientrare palla di sego ma il conte vi smigliò un leggero cssst e tutti alzarono gli occhi era lì fecero improvvisamente silenzio e in un primo momento un certo imbarazzo impedì di rivolgerle la parola la contessa più disinvolta delle altre nelle ambiguità da salotto le chiese era bello questo battesimo la ragazza ancora emozionata raccontò tutto i volti i gesti persino l'addobbo della chiesa e aggiunse fa così bene pregare qualche volta tuttavia fino all'ora di pranzo le signore si limitarono ad essere gentili con lei per renderla più fiduciosa e docile ai loro consigli una volta a tavola cominciarono gli approcci inizialmente con una conversazione vaga sullo spirito di sacrificio furono citati esempi antichi Giuditta e Oloferne poi senza alcuna ragione Lucrezia e Sesto Cleopatra che accoglieva nel suo letto tutti i generali nemici per costringerli poi alla sottomissione infine raccontarono una storia fantasiosa scaturita dall'immaginazione di quei milionari ignoranti in cui le donne di Roma si recavano a capo per far dormire Annibale fra le loro braccia e con lui i suoi luogotenenti e le falangi dei mercenari vennero citate tutte le donne che avevano fermato i conquistatori fatto del loro corpo un campo di battaglia un mezzo per dominare un'arma che avevano vinto con le loro carezze eroiche essere ignobili e odiati e sacrificato la propria castità alla vendetta e all'abnegazione si parlò in termini velati anche di quell'inglese appartenente a una grande famiglia e si era fatta inoculare una malattia orribile contagiosa per trasmetterla a buona parte salvatosi miracolosamente per un improvviso malore nell'ora del fatale appuntamento e tutto questo venneva raccontato in modo adeguato e discreto accompagnato talvolta da esplosioni di entusiasmo premeditato che avrebbe dovuto indurre all'emulazione si sarebbe potuto credere insomma che l'unico ruolo della donna su questa terra fosse un perpetuo sacrificio della propria persona un abbandono continuo ai capricci delle soldatesche le due suore sembravano non sentire immerse come erano nei loro pensieri profondi palla di seco non diceva nulla per tutto il pomeriggio la lasciarono riflettere ma invece di chiamarla signora come avevano fatto fino a quel momento le dicevano semplicemente signorina senza che nessuno sapesse bene perché come se avessero voluto farla scendere di un gradino nella stima che essa aveva scalato e farla sentire la sua situazione vergognosa nel momento in cui fu servita la zuppa il signor Follinviri apparve ripetendo la frase del giorno prima l'ufficiale prussiano mi manda a chiedere alla signorina Elisabeth Russe se non ha ancora cambiato idea palla di seco rispose seccamente no signore durante la cena tuttavia la coalizione si indebolì lo asò se ne uscì con tre frasi infelici ognuno si arrabattava per scovare nuovi esempi che non riusciva a trovare quando la contessa forse senza premeditazione sentendo un vago bisogno di rendere omaggio alla religione interrogò la suora più anziana sulle grandi gesta della vita dei santi ora molti avevano compiuto azioni che ai nostri occhi sarebbero apparse come crimini ma la chiesa assolve senza difficoltà quei misfatti quando sono compiuti per la gloria del signore e per il bene del prossimo era un argomento molto valido e la contessa ne approfittò fu così che per una di quelle tacite intese quelle compiacenze velate in cui eccelle chiunque indossi un abito ecclesiastico o semplicemente per effetto di una felice mancanza di intelligenza di una caritatevole stupidità l'anziana suora fornì un appiglio straordinario alla cospirazione si pensava fosse timida ed essa si mostrò ardita loquace impetuosa per nulla turbata dai dubbi della casistica la sua dottrina sembrava un asse di ferro la sua fede non vacillava mai la sua coscienza non aveva scrupoli considerava del tutto naturale il sacrificio di Abramo perché lei stessa avrebbe immediatamente ucciso padre e madre se un ordine fosse venuto dall'alto e nulla a sua parere poteva dispiacere al signore se l'intenzione era buona la contessa approfittando della sacra autorità della sua complice in attesa le fece fare una sorta di parafrosi edificante di quel famoso essioma morale il fine giustifica i mezzi e se la interrogava così sorella pensate che Dio accetti tutte le vie e perdoni il fatto quando la motivazione è pura chi non potrebbe dubitarne signora un'azione riprovevole in sé diventa spesso meritoria per il pensiero che la ispira ed essa continuava così rivelando le volontà di Dio prevedendo le sue decisioni facendolo interessare a cose che a dire il vero non lo riguardavano affatto e tutto questo era detto in modo velato ingegnoso discreto ma ogni parola di quella santa donna con la cuffia inamidata faceva breccia nella resistenza indignata della cortigiana poi la conversazione prese un'altra direzione e la donna dal rosario parlò degli istituti del suo ordine della sua superiore di se stessa e della sua graziosa vicina la cara sua ornicefora erano state chiamate alle havre per assistere negli ospedali le centinaia di soldati colpiti dal vaiolo fece un ritratto di quei miserabili descrisse minuziosamente la loro malattia e così mentre loro erano bloccate lì per i capricci di quel prussiano un gran numero di francesi rischiava di morire quando forse avrebbero potuto essere salvati curare i militari era proprio la sua specialità era stata in Crimea in Italia in Austria e raccontando le sue campagne essa si rivelò all'improvviso una di quelle suore energiche fatte perseguire gli eserciti raccogliere i feriti nel turbinio della battaglia e tenere a bada con una sola parola meglio di un comandante i soldati rozzi e indisciplinati una vera suora da combattimento il cui volto sfigurato scavato da innumerevoli cicatrici sembrava l'immagine stessa delle devastazioni della guerra l'effetto parve così prodigioso che dopo di lei nessuno disse più nulla non appena fu terminata la cena tutti salirono in fretta alle proprie stanze per ridiscendere all'indomani solo in tarda mattinata e il pranzo fu tranquillo si dava al grano seminato il giorno prima il tempo di germogliare e di dare i suoi frutti la contessa propose per il pomeriggio di fare una passeggiata il conte allora come era stato convenuto prese palla di sego sotto braccio e rimase con lei dietro agli altri le parlò con quel tono familiare paterno resermente sprezzante che usano gli uomini posati con le ragazze chiamandola bambina mia trattandola dall'alto della sua posizione sociale della sua indiscussa onorabilità entrò subito nel vivo della questione e così preferite lasciarci qui esposti come voi del resto a tutte le violenze che comporterebbe una sconfitta delle truppe prussiane piuttosto che accondiscendere a uno di quei favori che avete concesso tante volte nella vita palla di sego non rispose nulla la prese con la dolcezza con il ragionamento con i sentimenti se per rimanere il signor conte pur mostrandosi all'occorrenza galante complimentoso e persino amabile esaltò il favore che essa avrebbe reso loro parlò della loro riconoscenza poi all'improvviso dandole vivacemente del tu disse e poi mia cara potrebbe vantarsi di essersi goduto a una bella ragazza come non ne troverà molte nel suo paese palla di sego non rispose e raggiunse il gruppo appena rientrata salì in camera e non la viderò più l'ansia era enorme che cosa avrebbe fatto e che guaio se avesse resistito arrivò l'ora di cena ma la aspettarono in vano fu l'avvio entrando annunciò che la signora russè era indisposta e che potevano andare a tavola tutti drizzarono le orecchie il conte si avvicinò all'ocandiera e chiese sottovoce ci siamo? si per decenza non disse nulla ai suoi compagni e fece loro solamente un leggero cenno col capo immediatamente dal cuore di tutti quanti uscì un gran sospiro di sollievo e una grande euforia si dipinse sui volti l'oso gridò perbacco offro champagne a tutti se se n'è in casa e la signora l'oso fu salita dall'angoscia quando il padrone tornò con quattro bottiglie in mano tutti erano diventati improvvisamente chiacchieroni e chiassosi una contentezza piena di salacità riempiva i cuori il conte parve accorgersi che la signora carrella madonna era affascinante il cotoniere fece dei complimenti alla contessa la conversazione fu vivace allegra piena di frecciate all'improvviso lo asò con il volto pieno d'ansia e le braccia alzate gridò silenzio tutti d'acquero sorpresi quasi spaventati allora lui tese l'orecchio facendo con le mani alzò gli occhi verso il soffitto ascoltò nuovamente e riprese con voce normale state tranquilli va tutto bene in un primo momento non capirono ma poi tutti sorrisero un quarto d'ora dopo ricominciò con lo stesso scherzo e lo ripetì parecchie volte nella serata fingeva di rivolgersi a qualcuno al piano superiore dandogli dei consigli a doppio senso con il suo spirito da commesso viaggiatore a volte assumeva un'aria triste e sospirava povera ragazza o mormorava denti stretti con rabbia disgraziato di un prussiano ancora quando nessuno ci pensava più ripeteva con voce vibrante una serie di basta basta e aggiungeva come parlando a se stesso purché riusciamo a rivederla che non ce la faccia morire quel mascalzone benché queste battute fossero di pessimo gusto divertivano e non lo fondevano nessuno perché lo sdegno come tutto il resto dipende dalle circostanze e l'atmosfera che poco a poco si era creata attorno a loro era densa di pensieri salaci al dolce persino le signore fecero delle allusioni spiritose e discrete gli sguardi brillavano tutti avevano bevuto molto il conte che sapeva mantenere la sua grande apparenza di gravità anche nei momenti di abbandono fece un paragone molto apprezzato con lo sciogliersi del gelo al polo e la gioia dei naufraghi che vedono aprirsi una strada verso il sud lo so lanciato si alzò e con un bicchiere di champagne in mano disse bevo alla nostra liberazione tutti si alzarono in piedi applaudendo persino le due suore sollecitate dalle signore acconsentirono a inumidire le labbra in quel vino sfumeggiante che non avevano mai assaggiato dissero che assomigliava alla limonata gazzosa ma che era comunque più delicato lo so tirò le somme e disse è un peccato non avere un pianoforte perché avremmo potuto fare una quadriglia con l'udè non aveva detto una parola o fatto un gesto sembrava anzi immerso in pensieri gravi e talvolta si tirava con un gesto pieno di rabbia la sua grande barba quasi volesse allungarla ancora infine verso mezzanotte quando stavano per separarsi lo asò barcollante gli diede all'improvviso un colpo allo stomaco gli disse farfugliando non siete allegro questa sera non dite niente cittadino ma con l'udè alza bruscamente il capo e disse passando rivista il gruppo con una terribile occhiata di fuoco dico a tutti voi che avete compiuto un'infamia si alzò raggiunse la porta ripete ancora una volta un'infamia e scomparve in un primo momento si raggelò l'aria lo so interdetto rimase di sasso ma presto si riprese e all'improvviso si sbellicò ripetendo è ancora acerba vecchio mio è ancora acerba siccome nessuno riusciva a capire raccontò i misteri del corridoio ci fu ancora un incredibile ritorno di allegria le signore si divertivano come pazze il conte e il signor carrellamadon avevano le lacrime agli occhi dal ridere non potevano crederci ma come siete sicuro voleva dico che l'ho visto e lei ha rifiutato perché il prussiano era nella camera accanto non è possibile ve lo giuro il conte soffocava dal ridere l'industriale si teneva la pancia con tutte e due le mani l'osò continuava è così capita bene questa sera non la trova divertente ma niente affatto e tutti e tra li cominciavano a ridere quasi da sentirsi male tossendo quasi da soffocare e su questo si separarono ma la signora l'osò che era come le ortiche fece notare al suo marito mentre stavano per coricarsi che quella strega della piccola carrella madone aveva riso a denti stretti per tutta la sera ai le donne quando hanno un debole per le uniformi che siano francesi o prussiani beh per loro esattamente lo stesso non è una vergogna signori dio e per tutta la notte nell'oscurità del corridoio ci furono dei fremiti dei rumori lievi appena distinguibili appena un soffio fruscidi piedi nudi impercettibili scricchioli e certamente tutti si addormentarono molto tardi da che sotto le porte filtrarono a lungo sottili strisce di luce lo champagne fa questi effetti turba il sonno dicono il giorno seguente un chiaro solo invernale rendeva la neve abbagliante la carrozza finalmente attaccata ai cavalli aspettava davanti alla porta mentre uno stuolo di colombi bianchi con il petto gonfio di spesse piume e l'occhio rosa macchiato al centro da un puntino nero passeggiavano gravemente fra le gambe dei sei cavalli sparpagliando lo sterco fumante per cercare un po' di cibo avvolto nella sua pelle di montone il cocchiere fumava la pipa sul sedile e tutti i viaggiatori raggianti facevano velocemente impacchettare le proviste per il resto del viaggio aspettavano solo palla di sego quando questa apparve sembrava un po' turbata vergognosa avanzò timidamente verso i compagni che tutti con lo stesso movimento si voltarono come se non l'avessero vista e il conto prese con dignità e braccio di sua moglie e la allontanò da quel contatto impuro la ragazza si fermò sbalordita poi riunendo tutto il proprio coraggio si rivolse alla moglie del cotoniere sussurrandole umilmente un buongiorno signora l'altra fece un leggero saluto impertinente col capo accompagnato da uno sguardo di virtù oltraggiata tutti sembrarono indaffarati e si tenevano alla larga da lei come se avesse avuto la peste addosso poi si precipitarono verso la carrozza dove essa giunse sola per ultima e riprese in silenzio il posto che aveva occupato nella prima parte del viaggio sembrava che nessuno la vedesse o la conoscesse ma la signora Loasù scrutandola da lontano con indignazione disse piano a suo marito per fortuna che non sono seduta vicino a lei e la pesante carrozza tremò tutta e il viaggio riprese da prima nessuno parlò Palla di Sego non osava alzare gli occhi al tempo stesso essa si sentiva indignata contro tutti i suoi compagni e umiliata per aver ceduto essersi infangata con i baci di quel prussiano nelle braccia del quale l'avevano ipocritamente gettata ben presto quel penoso silenzio fu interrotto dalla contessa che si rivolse alla signora Carrella Madon conoscete credo la signora Detrel sì la mia cara amica che donna affascinante incantevole una persona veramente eccezionale molto colta del resto e artista fino alla punta delle dita canta splendidamente e disegna la perfezione il cotoniere discuteva con il conte e nel frastuono dei finestrini di tanto in tanto si sentivano parole come cedola scadenza premio a termine Loisot che aveva sgraffignato il vecchio mazzo di carte della locanda unto da cinque anni di sfregamenti sui tavoli mal puliti cominciò una partita con sua moglie le suore presero il lungo rosario che pendeva dalle cinture si fecero insieme il segno della croce e all'improvviso le loro labbra si misero a muoversi rapidamente accelerando sempre più aumentando il loro vago mormorio come per una corsa di oremus e di tanto in tanto baciavano una medaglia si facevano nuovamente il segno della croce poi ricominciavano il loro rapido il continuo balbettio cornodè pensava immobile dopo tre ore di cammino l'osora colse le carte e disse ho fame allora sua moglie prese un pacchetto chiuso da cui tirò fuori un pezzo di vitello freddo lo tagliò per bene a fette sottili e compatte e tutti e due si misero a mangiare e se facessimo anche noi lo stesso disse la contessa tutti furono d'accordo ed essa scartò le provviste preparate per le due coppie in uno di quei vasi ovali con una lepre di ceramica sul coperchio a indicare che dentro è contenuto un patè di lepre c'erano dei salumi succulenti con strisce bianche di lardo che attraversavano la carne scura della selvaggina vista ad altre carni finemente tritate un bel pezzo di gruviera avvolto in un foglio di giornale aveva stampata la parola cronaca sulla sua pasta oleosa le due suore scartarono un salame rotondo che sapeva di aglio e cornudè mettendo tutte e due le mani nelle grandi tasche del suo cappotto in forme tirò fuori quattro uova sode da una e un tozzo di pane dall'altra le spucciò gettò il guscio ai suoi piedi nella paglia e mangiò a morsi le uova così facendo cadere sulla sua grande barba dei pezzetti di tuorlo chiaro che là in mezzo sembravano tante stelle palla di sego nella fretta e nell'ansia del risveglio non era riuscita a pensare a nulla e esasperata soffocando di rabbia guardava tutta quella gente che mangiava placidamente mente in un primo momento una collera tumultuosa la fece contrarre tutta essa aprì la bocca per gridare a quelli il fatto loro coprendoli di una valanga di ingiurie che le venivano alle labbra ma l'esasperazione le stringeva la gola al punto da non riuscire a parlare nessuno la guardava o pensava a lei e lei si sentiva soffocare nel disprezzo di quella miserabile gente per bene che prima l'aveva sacrificata poi gettata via come un oggetto sudicio e inutile allora pensò al suo grande paniere zeppo di buone cose che quelli avevano ingordamente divorato ai suoi due polli luccicanti di gelatina ai patè alle pere alle quattro bottiglie di bordeaux poi all'improvviso la sua collera cessò come si era spezzata una corda troppo tesa sentì che stava per piangere fece degli sforzi terribili si irrigidì inghiottissi inghiozzi come fanno i bambini ma le lacrime arrivavano luccicavano agli angoli delle palpebre e presto due grossi lucciconi si staccarono dagli occhi e scivolarono lentamente sulle guance e seguirono altri più rapidi scendendo come gocce d'acqua che filtrono da una roccia e cadendo con regolarità sulla curva piena del suo petto rimaneva dritta con lo sguardo fisso il volto rigido e pallido nella speranza che nessuno la vedesse ma la contessa se ne accorse e fece un segno a suo marito questi alzò le spalle come per dire cosa volete non è colpa mia la signora lo asò fece un sorriso trionfale e silenzioso e mormorò piange di vergogna le due suore dopo aver riavvolto in una carta il resto del loro salame si erano rimesse a pregare allora colmude che stava digerendo le uova stese le sue lunghe gambe sotto il sedile di fronte si distese all'indietro incrociò le braccia sorrise come qualcuno che ha appena avuto una bella pensata e si mise a fischiettare la marsigliese tutti i volti divennero cupi quel canto popolare non piaceva certamente ai suoi vicini divennero nervosi irritati sembravano pronti a urlare come i cani al suono di un organetto di barberia se ne accorse e non si fermò più a volte anzi cantichiava anche le parole ora andavano più veloci perché la neve si era indurita e fino a dieppe per tutte le tetre lunghe ore del viaggio fra gli scossoni della strada nel crepuscolo poi nell'oscurità profonda della carrozza egli continuò con feroce ostinazione il suo fischio vendicativo e monotono obbligando gli animi stanchi e desasperati a seguire quel canto dall'inizio alla fine a ricordarsi ogni parola e adattarla a ogni nota palla di seco continuava a piangere e ogni tanto un singhiozzo che non era riuscito a trattenere scappava fra una strofa e l'altra nelle tenebre e l'altra grazie a tutti grazie a tutti